Questa alleanza non è, a nostro giudizio, la soluzione ai problemi drammatici del Paese. Se sarà governissimo per noi, sarà il tempo dell'opposizione. Ma la nostra disponibilità a giudicare senza pregiudizi ogni singolo provvedimento di quel governo è in campo perché non ci sfugge la drammaticità della condizione del Paese. E allora vorrei dire che a qualunque governo andremo incontro, spetterà il compito, nelle prime settimane di attività, di rispondere positivamente alle questioni che oggi sono sul tavolo. Il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, della Cassa Integrazione Inderoga, chiusura della partita penosa degli esodati, abbattimento dei vincoli sul patto di stabilità, che sono il cappio al collo delle pubbliche amministrazioni e il cappio al collo della nostra economia. La riapertura di un negoziato su Bruxelles, con Bruxelles, che ci consenta di fuoriuscire dalla palude delle politiche dell'austerity, in cui stanno sprofondando le società europee. Quindi, opposizione, ma una capacità di distinzione, di collaborazione su tutto ciò che può consentire di alleviare i dolori del Paese. Grazie.